Il cuore di Genova All'interno di uno dei parchi storici più belli della città, rivolto verso il porto, in una straordinaria posizione panoramica, sorge il Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone. La sua collezione d'arte giapponese e cinese nasce dal dono di un grande artista e professionista genovese, Edoardo Chiossone. Professore di disegno ed incisore, formatosi all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, grazie al suo talento, nel 1875 fu invitato dal governo giapponese a progettare le prime banconote, francobolli ed altri valori postali presso l'Officina Carte e Valori del Ministero delle Finanze a Tokyo, dando un contributo importantissimo alla modernizzazione del Giappone e allo sviluppo dell'economia nipponica. Le sue doti artistiche furono apprezzate a tal punto da avalergli l'incarico per la realizzazione del ritratto ufficiale dell'imperatore Meiji. Durante i suoi 23 anni in Giappone raccolse una meravigliosa collezione d'arte orientale, che alla fine della sua vita decise di donare alla città di Genova affinché fosse esposta alla cittadinanza. Venne inizialmente ospitata presso l'Accademia Ligustica e dal 1971 è conservata e disposta presso la sede attuale progettata da Mario Labò e sita all'interno della Villetta di Negro. Vantando più di 15.000 pezzi, è la più grande collezione di arte giapponese e cinese in Italia. Il percorso museale si svolge su cinque gallerie, tre in cui vediamo l'esposizione permanente e due dedicate allestimenti temporanei. Qui ci troviamo nella prima galleria dove iniziamo il nostro viaggio nella storia della cultura e dell'arte giapponese a partire da alcuni importanti reperti archeologici. Questa campana rituale in bronzo, con disegni di spirali d'acqua del I secolo d.C., è un tipico reperto del medio periodo Yayoi, epoca a cui si fa insalire l'inizio dell'età del metallo giapponese. Questo reperto attesta lo sviluppo della vita sociale e sedentaria legata all'introduzione dell'agricoltura. Veniva utilizzato infatti in rituali propiziatori destinati ad assicurarsi la bontà del raccolto. Questo specchio in bronzo, invece, risalente al V-VI secolo d.C., è di provenienza cinese o giapponese. Fu donato dal prefetto di Osaka, Saisho Atsushi, a Edoardo Chiosone nel 1881 in segno di amicizia e stima. Questi specchi dall'uso rituale, il cui lato riflettente è ottenuto levigando il bronzo, sono solitamente decorati con motivi taoisti. Il nostro esemplare presenta una rara combinazione di motivi decorativi taoisti e figure buddhiste. Nelle prossime cinque vetrine vediamo l'evoluzione dell'iconografia buddhista dal VII al XIX secolo. Le figure più importanti sono quelle dei Buddha, dei Bodhisattva, dei Re della Luce o Mioho, degli Shitenno, i Guardiani Celesti, e i Ten, detti anche Deva, provenienti dalla tradizione induista. Le grandi opere di statuaria buddhista sono esposte nel salone a piano terra. Per quasi 700 anni il Giappone fu dominato dall'aristocrazia militare, il cui simbolo più famoso è il samurai, letteralmente colui che serve, ovvero colui che combatteva per il suo signore. In queste vetrine troviamo alcuni elementi dell'armatura e delle armi del guerriero samurai. Mentre nella galleria di fronte abbiamo esposte 12 armature complete da samurai, rappresentative delle tipologie utilizzate dal XVI al XIX secolo. Le grandi armature giapponesi della tipologia Oyoroi, realizzate in bronzo e tessuto e finemente decorate, erano riservati ai grandi combattenti. Questi esemplari, mai utilizzati in battaglia, erano principalmente un simbolo del potere indossate durante le parate militari. Nella seconda galleria troviamo due vetrine dedicate alle maschere del Teatro Noh, il dramma tradizionale giapponese, messo in scena attraverso recitazione, danza e musica. I caratteri principali delle maschere sono quelli dell'uomo, della donna, del demone, della divinità e del vecchio. Nella sezione delle arti applicate troviamo una selezione di opere cinesi e giapponesi, delle categorie degli smalti policromi, delle porcellane e delle lacche. Nella seconda galleria troviamo una selezione di opere cinesi e giapponesi, delle pericolari, delle pericolari, delle pericolari, delle pericolari, delle pericolari, delle pericolari. La terza e la quarta galleria sono ideate appositamente per esporre all'interno delle stimenti temporanei le opere della collezione Chiosone, che per ragioni conservative e di spazio non possono far parte dell'esposizione permanente. Attualmente infatti troviamo esposta una selezione di opere del famoso artista giapponese Okusai. Si tratta di stampe xilografiche policrome, dette ukiyo-e. Tra queste stampe, pubblicate tra 1830 e 1831 nella serie delle 36 vedute del Monte Fuji, troviamo anche il famoso capolavoro La Grande Onda. Grazie. 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 Grazie.